Siamo in collegamento con Franco Giardini, meteorologo dell'ARPAV nella sede di Teolo per parlare dell'annuncio di queste giornate con calore molto alto e ondate di calore che coincidono anche con questa allerta sul cambio del clima del pianeta da parte dell'ONU. In questa settimana avremo la consolidarsi sul Mediterraneo di un anticiclone di origine africana che sta già interessando le zone meridionali, il centro meridionale dell'Italia e poi si spingerà sempre più a nord. Questo anticiclone che cosa porterà? Porterà aria più stabile, condizioni di stabilità e quindi precipitazioni non del tutto assenti però piuttosto sporadiche. Saranno dovute soprattutto ai famosi rovesci o temporali di calore che si potranno verificare sulle zone montane soprattutto nel pomeriggio sera. Invece per quanto riguarda le temperature avremo due fatti. Avremo un aumento delle temperature più marcato circa da metà settimana con temperature minime che sulla nostra regione potranno andare sui 21-23 gradi e anche qualche cosa superiore come punta diciamo. Invece per quanto riguarda le temperature massime andremo verso i 33-35 gradi ma anche con delle punte di 35-37 gradi rispetto a una media che è intorno ai 31 gradi per questo periodo. La temperatura percepita e quella che invece voi registrate sappiamo che è diversa e in questo momento tutti stanno soffrendo nonostante le temperature non siano poi così alte. Oltre all'aumento delle temperature ci sarà anche un progressivo aumento dell'umidità che già si fa sentire in questi giorni e quindi determina comunque delle condizioni di disagio però si accentuerà poi proprio dalla seconda metà della settimana e fino sostanzialmente a ferragosto. In questi giorni ancora non abbiamo temperature particolarmente elevate per dire ieri avevamo sulla regione tra i 32 gradi sui capoluoghi come media sui capoluoghi e aumenteranno comunque nei prossimi giorni. Relativamente a quest'estate dobbiamo dire che nei mesi di giugno e luglio non abbiamo avuto delle ondate di calore vere e proprie nel senso che ci sono stati dei periodi con temperature ben superiori alla media però sono state in genere limitate a due massimo tre giornate. Nel contempo abbiamo anche registrato un aumento di quelle che chiamiamo le notti tropicali cioè quelle notti in cui la temperatura minima è maggiore di 20 gradi. Questo è abbastanza importante perché gli effetti sull'organismo dipendono anche dalla possibilità di un recupero notturno.